Se fosse stato possibile, avrei desiderato ricarmi in ogni paese, in ogni quartiere, venire in tutte le tendopoli e incontrare tutti. Mi rendo ben conto che nonostante l'impegno di solidarietà manifestato da ogni parte, sono tanti quotidiani disagi che comporta vivere fuori casa, o nelle automobili, o nelle tende, ancora più a causa del freddo e della pioggia. Penso poi a tanti giovani costretti bruscamente a misurarsi con una dura realtà, ai ragazzi che hanno dovuto interrompere la scuola con le sue relazioni, agli anziani. Ecco, cari amici, la mia povera presenza tra voi vuole essere un segno del fatto che il Signore crocifisso vive, che è con noi, che è realmente risolto e non ci dimentica, non vi abbandona. Grazie. Grazie. Grazie.